Grazie a tutti Grazie, gentile a lei Sì, volentieri 100% la siamo stati invitati per questo motivo Perché abbiamo vinto il premium milestone a terra E allora rappresento tutti i prodotti della Falco Schiavo Per questo punto Quello è l'uomo, 100% e Fai Zunca Fai Zunca Non diciamo Fai Zunca Fai Zunca Grazie mille, scusi Gentilissimo, Yulah Grazie mille, arrivederci Grazie mille